Sono tutti i calabresi, i vincitori del secondo trofeo Pizza Eccellenze d'Italia, che ha animato per due lunghe giornate il T-Hotel di La Mezzaterme. La manifestazione, organizzata dall'API, l'Associazione Nazionale Pizzaioli d'Italia, insieme alla Scuola Nazionale Pizza di Rende, ha visto oltre 100 pizzaioli provenienti da tutto il bel paese contendersi il titolo di miglior pizzaiolo in tre categorie. La pizza ormai ha fatto tante evoluzioni, non è più solamente la pizza tradizionale di un tempo, quindi la formazione, l'aggiornamento è fondamentale, ma è fondamentale conoscere non solo il momento della lievitazione, naturalmente di quello che diventerà poi pizza, e della cottura, ma anche la conoscenza delle farciture, che sono diversissime, in modo tale che non si seguono delle mode, ma si ha soprattutto la coscienza dei prodotti in particolare del proprio territorio e come valorizzarli sulla pizza finale. Ad aggiudicarsi il riconoscimento ambito nel settore delle pizze tonde, Natale Giovanni Abruzzese da Corigliano, per la pizza in teglia Simone Rispoli da Cariati, per quella alla pala, infine Gianluca Cua da Catanzaro. Va invece ad un lucano il premio speciale che è stato consegnato a Vito Vigiano da Stigliano, in provincia di Matera. Tiziana Bagnato per la Cegnus 24.